Marco Camilla, com'è andata? E' andata male oggi, giornata veramente nera, sfortunata. Non sono mai entrato nella corsa e non ho mai potuto dare il 100% perché tra tre forature, una caduta, il cambio mi si è bloccato due volte. Oggi davvero non potevo farci nulla, è stata solo tanta tanta sfortuna. E' un peccato molto amareggiato perché la gamba, penso di averla e in giornata come questa purtroppo bisogna solo rendersi a quella che è la mera sfortuna.